Ultimi giorni di campagna elettorale, tanti incontri, è un modo per stare insieme alla gente e vivere questa campagna elettorale con lo spirito di servire la collettività, proprio cercando ovviamente di acquisire una fiducia che appunto si riverbererà come bene comune per la collettività laertina e non solo. Siamo con Agostino Perrone, detto Costantino, siamo qui in una struttura, in un bar di La Terza ricordiamo che Agostino Perrone, detto Costantino, è candidato sia al Consiglio Comunale sia al Consiglio Regionale Pugliese con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco il dottor Angelo Cefalo e del candidato presidente della Regione Puglia l'onorevole Raffaele Fitto. Allora, Costantino, come sta andando il clima, le sensazioni, insomma sono giorni davvero convulsi però anche pregni di soddisfazione. Sì, questo è vero, pieno di soddisfazione. Sto girando le case, l'altro giorno ho girato il mercato, c'è molto entusiasmo di cambiamento c'è la gente si avvicina da sola a esporre i problemi e sempre ieri ho avuto un incontro nella col diretta di La Terza dove hanno bisogno veramente di un riferimento politico. Lì ho fatto alcuni interventi dove ho dichiarato che ha già detto lei per quanto riguarda la doppia candidatura, io sono candidato al Consiglio Comunale e al Consiglio Regionale e bisogna far capire bene alla gente l'impegno che sto mettendo per questa doppia candidatura. Nella col diretta avevano bisogno sia a livello comunale ed era presente il candidato sindaco, il dottor Cefalo e poi ho fatto il mio intervento dove ho dichiarato che se io sarò eletto in Regione devo creare uno sportello a spese mie che devono raccogliere tutte le istanze perché qui diciamo che l'agricoltura è arrivato proprio a zero. Come abbiamo detto nei precedenti incontri che l'agricoltura è uno dei punti fondamentali, quindi la terza è una comunità rurale legata all'agricoltura, alla ricchezza dell'agricoltura ma l'agricoltura è una ricchezza non solo per la terza ma per l'intero territorio come alternativa alla monocultura dell'acciaio. Sì, ci sono state parecchie interventi anche di tanti agricoltori che erano presenti allevatori dove sono rimasti soddisfatti del mio intervento perché veramente sono stati abbandonati sia a livello locale che a livello regionale. Sappiamo tutti che Emiliano non ha fatto cose belle, non ha considerato questo settore che ha la terza. La vicenda a Xilella gestita molto male? Sì, ma ancora non è arrivato qui, non è quello proprio il problema nostro. Il problema nostro è proprio degli agricoltori allevatori, cioè qui hanno bisogno veramente di un rappresentante e si è discusso tanto con Diretti e si è parlato di creare una filiera di tutti i prodotti che devono anche trasformare e comunque io ho preso questo impegno in qualità di consigliere regionale se riesco ad arrivare che mi impegnerò facendo questo sportello che dobbiamo mettere insieme sia le istanze comunali prise dagli allevatori e coltivatori e sia direttamente di queste imprenditure che presenterò alla regione. Grazie a tutti!